Benvenuti in Vallonia, dove la sinistra storicamente detiene il primato. Questa regione nel sud del paese è più povera rispetto al nord a causa della deindustrializzazione. Un consigliere locale ci racconta quali sono le difficoltà che la gente deve affrontare. C'è molta povertà, molte persone in difficoltà, la città è messa male, quello che cerchiamo di fare è cercare dei fondi per riqualificarla. La regione era prospera durante l'epoca industriale, 30 anni fa ha chiuso l'ultima miniera di carbone e da allora molte industrie se ne sono andate, ora è il più alto livello di disoccupazione nel paese. Alle ultime elezioni il Partito dei Lavoratori ha ottenuto risultati impressionanti. Il Partito Socialista ha ancora il primato, ma il Partito dei Lavoratori invierà sette deputati al Parlamento federale. cercheranno di contrastare i privilegi dei partiti tradizionali. Vogliamo dimezzare gli stipendi dei parlamentari e dei ministri perché così potranno rendersi conto di come vivono le persone normali. Combatteranno inoltre per i diritti dei lavoratori e delle classi meno agiate, spiegano. La questione è sapere se la ricchezza prodotta serve a migliorare la vita della maggior parte delle persone oppure finisce in mano a pochi. Le divisioni tra nord e sud vanno al di là delle questioni economiche, c'è anche una questione identitaria. Nelle Fiandre alle persone sin da piccole viene insegnato che sono fiamminghi. Noi abbiamo un maggiore attaccamento alle nostre città, Liegi, Namur, ma siamo prima di tutto Belgi. L'identità nazionale è una questione risolta, ma prima sarà necessario formare un governo. Un compito difficile. L'ultima volta ci sono voluti ben 541 giorni.